Il campionato italiano di questa stagione è ufficialmente concluso, con l'Inter che si è laureata campione. Recentemente, l'Inter ha celebrato in grande stile il titolo, una prassi normale, ma ciò che ha attirato l'attenzione è stato l'ex giocatore della Juventus, Juan Quadrad. Juan Quadrad, trasferitosi all'Inter a costo zero, ha avuto una stagione deludente, in gran parte a causa di un infortunio. In totale, ha disputato solo otto partite durante tutta la stagione. Durante la festa dello scudetto dell'Inter, il colombiano ha suscitato polemiche tra i tifosi della Juventus mostrandosi uno dei più attivi, cantando tutte le canzoni e pubblicando una foto sui social media con occhiali a forma di stella. Un comportamento molto criticato dai tifosi della Juventus, che lo hanno attaccato sui social media, accusandolo di provocare la Juventus. Per oggi è tutto. Vuoi ricevere altre notizie come questa? Se si, iscriviti e attiva le notifiche.